È Gossolengo il comune piacentino in cui si è votato di più. L'81,49% degli elettori si è recato alle urne. Hanno superato l'80% anche Gazzola e Besenzone. Nel piccolo comune montano di Zerba l'affluenza si è invece fermata al 47,22%, ma in salita rispetto al 2013 di circa 6 punti. Il calo più consistente, di oltre 6 punti, si è registrato a coli. Erano 211.347 gli elettori piacentini chiamati alle urne per le elezioni politiche nazionali e c'era tempo per votare fino alle 23. Il dato definitivo dell'affluenza è del 75,56%, il lieve calo rispetto al 2013 quando votò il 78,70% degli eventi diritto. Complessivamente si sono recati ai seggi 159.726 elettori piacentini. Nel capoluogo ha votato il 74,53% degli elettori, 4% in meno rispetto a 5 anni fa. Il dato piacentino è più alto rispetto a quello nazionale, che si è fermato al 72,91%. È scesa l'affluenza anche in Emilia-Romagna, dove il 4 marzo ha votato il 78,23% degli eventi diritto, mentre nel 2013 era andato alle urne l'82%. Da quest'anno le schede venivano riposte nelle urne non dai votanti ma dagli scrutatori dopo aver tolto il bollino antifrode. Piccolo incidente per Pierluigi Bersani che ha inserito personalmente le schede nelle urne.